A Beer Food Attraction 2023 non poteva mancare la visita allo stand dell'Associazione Verace Pizza Napolitana. Ci troviamo in compagnia di Marco Leone, associato e brand ambassador per la Sardegna. Marco sei il benvenuto. Grazie Fabio, grazie mille davvero. Allora Marco noi abbiamo assistito a uno dei tuoi show cooking stamattina, eravamo qui di passaggio e abbiamo visto in che modo tu spiegavi come si realizza una pizza. Voi in quanto associazione presente da credo il 1984 siete tra i promotori del protocollo per la realizzazione della pizza perfetta. Esattamente, perfetta sì perché la pizza napoletana è perfetta nella sua semplicità, è semplicemente perfetta come si sol dire. E allora raccontaci intanto, in forma breve, qual è il metodo adottato dall'Associazione per indicare il protocollo di riferimento a tutti coloro che sono attualmente associati o vogliono associarsi. Sì, è tutto molto semplice. Il nostro presidente Pace, nell'84, con i rappresentanti delle più antiche famiglie di pizzaioli napoletani, hanno deciso appunto di andare dal notaio e mettere dei paletti. Si erano un po' stancati di leggere nel mondo, dappertutto, pizza napoletana. Bastava avere un cognome partenopeo piuttosto che un nome, Ciro, Gennaro e si sentivano, come dire, autorizzati a parlare di pizza napoletana. Qualche volta era vero, altre volte no. Quindi loro decisero di mettere nero su bianco il metodo pizza napoletana. Non è che sia nato nell'84, ma è in quella data che hanno deciso di bloccare quello che gli antenati facevano da secoli. Ci sarebbe tantissimo da dire sul metodo per la realizzazione della pizza perfetta. Ho veramente, insomma, ore e ore di conversazione. Però andiamo in pochi minuti a spiegare qual è il motivo per cui intanto voi siete qui al Beer & Food Attraction. Sì, proprio perché l'associazione nasce senza scopo di lucro, quindi è veramente una passione. È il diffondere nel mondo questa nostra arte, quella che ci portiamo da tantissimo. Tant'è che noi abbiamo associati in tutto il mondo perché ci si può associare, appunto. Se le cose si fanno seguendo quel metodo, quel protocollo, previ controlli. Se si è in regola, si può far parte di questa grande famiglia che oggi conta mille associati, oltre mille associati in tutto l'emisfero, in tutto il globo. E così chiunque rispetti il protocollo diventa associato e può godere del distintivo del vostro brand di riferimento. Assolutamente sì. Fa parte di questa grande famiglia, ha l'uso del marchio, è autorizzato ad adoperare il marchio e compare sul nostro sito che conta veramente milioni di visualizzazioni, quindi è una cosa notevole. Un marchio che si è evoluto nel tempo con l'aggiunta di cucina, gas, pizza, fritta. Ecco, raccontaci la storia di questa evoluzione. Sì, caro Fabio, il mondo va avanti, quindi purtroppo resta la cottura migliore, la cottura principe, quella con la legna. Però ci siamo resi conto che appunto dovevamo andare avanti, ci sono dei condomini piuttosto che dei comuni o anche delle nazioni che non consentono l'uso della legna o non consentono le canne fumarie. Per cui noi diciamo, se non puoi adoperare il forno a legna, puoi usare quello a gas. Forni a gas che comunque sono costruiti con delle metodiche, con delle caratteristiche molto peculiari, molto particolari, che egregiamente riescono a fare il lavoro della legna. Poi c'è stato l'ulteriore passo, veramente molto recente, io la chiamo l'estrema razio, quello elettrico, perché qualche volta neanche il gas è possibile che venga adoperato. Noi diciamo, va bene, se manco questo puoi farlo, sei autorizzato con il forno elettrico. Dei forni elettrici particolari, costruiti, realizzati da nostri partner, da noi, come dire, testati a Capodimonte nei nostri laboratori, che riescono in tutto e per tutto a riprodurre la tipologia di cottura degli altri forni di cui ti avevo detto poc'anzi. Ci sono naturalmente determinate caratteristiche tecniche che vanno rispettate. La temperatura che deve essere al massimo di tot gradi, non deve cuocere oltre un determinato numero di secondi, non deve essere bruciata al di sotto e così via. In che modo viene spiegato e riepilogato tutto questo? Immagino ci siano dei corsi dell'Accademia. Sì, noi a Capodimonte, dove c'è il quartier generale, ogni mese teniamo una o più sessioni di training, quindi di formazione. E viene spiegato appunto tutto. Certamente noi diciamo ai ragazzi del corso, voi non potete dire dopo dieci giorni, siamo dei pizzaioli professionisti, però sicuramente sanno come e perché avvengono dei metodi. Persone che non sapevano fare niente, alla fine riescono a realizzare il loro impasto, la loro pizza, sanno come cuocerla e naturalmente, tu dicevi, sono delle tipologie particolari. Sì, è una cottura molto complessa. Lavoriamo a 450 gradi, 470, quindi puoi immaginare che mentre con temperature più basse anche qualche secondo in più non è fondamentale, non è significativo, quando lavori a quelle temperature anche due secondi in più fanno la differenza da una colorazione magari ambrata passiamo al nero, al carbonizzato, quindi è molto particolare. Io dico sempre agli allievi, prima di essere dei buoni pizzaioli dovete essere gli ottimi fornai, perché forse è la fase più delicata quella della cottura, della pizza napoletana. E allora forniamo un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale poter entrare in contatto con voi e richiedere maggiori informazioni rispetto ai corsi, l'accademia o anche semplicemente voler diventare associati all'associazione. Certo, perché noi teniamo i corsi ma si può diventare appunto associati, abbiamo un albo professionale quindi si può diventare pizzaioli veraci, quindi è molto varia la nostra associazione. Io inviterei i nostri telespettatori a visitare il sito pizzanapoletana.org poi ci saranno i vari link, quindi formazione, marketing, eccetera, eccetera, eccetera. È molto intuitivo il sito. Bene, grazie. Io ti ringrazio per la disponibilità prima di andare via. Vorrei che però tu mi raccontassi un piccolo episodio. So che è stato, o meglio, hai goduto di un premio coniato in modo quasi esclusivo pochissimo tempo fa. Di cosa si tratta? Sì, è per me veramente un motivo di grande orgoglio, perché l'arte del pizzaiolo napoletano dal 2017 è diventato niente di meno che patrimonio dell'UNESCO. Siamo un patrimonio immateriale, un bene immateriale dell'umanità. E lo scorso dicembre io con altri 19 colleghi, quindi 20 totali, abbiamo avuto un riconoscimento davvero prestigioso. Una medaglia coniata dalla Zecca di Stato in tiratura limitata in cui siamo stati premiati 20 ambasciatori della pizza nel mondo. Abbiamo contribuito a diffondere la pizza napoletana nel mondo. Una cosa di cui vai orgogliosissimo, si vede e direi che è anche più che giusto. Marco, ti ringrazio per la collaborazione. Mi auguro prossimamente di riaverti ai nostri microfoni, magari con un Horeca Focus di 15-20 minuti per poter approfondire tutti i temi legati alla potenziale partecipazione all'associazione da parte di coloro che ne hanno interesse. Marco, grazie per la disponibilità. Grazie, grazie a voi tutti. Fabio, sarà per me un grande piacere tornare alle vostre telecamere. Grazie a tutti.